benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di forumpia play io sono maurizio come c'è michela ciao michela ciao maurizio allora forumpia play oggi siamo alla terza puntata è questo percorso di accompagnamento post forumpia 2023 per rivivere un po quello che è stato la manifestazione di quest'anno per informarvi anche degli eventi che si trovano sul nostro sito sono stati registrati durante forumpia giusto michela sì certo perché quest'anno appunto l'evento era tutto in presenza ma non potevamo non farvi non deliziarvi anche nelle settimane successive con le registrazioni di forumpia a parte gli scherzi ce lo state chiedendo in tanti e stiamo man mano insomma in questi giorni mettendo tutto online ancora un po di pazienza per qualche appuntamento che stiamo rifinendo però è tutto quasi pronto li trovate sul nostro sito e però questo appuntamento è un po la novità di quest'anno ci serve per creare un po dei fili di ragionamento sugli appuntamenti il formato è quello del video podcast quindi è disponibile sia in video sia in podcast ogni puntata che stiamo portando avanti a un tema specifico oggi il tema è la comunicazione istituzionale quindi la comunicazione che le pubbliche amministrazioni fanno verso l'esterno è un tipo di comunicazione molto importante michela che negli ultimi anni soprattutto nell'ultimo decennio è cambiata molto beh io gioco un po in casa oggi perché alcuni di questi appuntamenti li ho moderati io è un tema che mi piace molto seguire e devo dire sì comunicazione istituzionale comunicazione pubblica un settore che naturalmente come tanti settori ha subito fortemente l'impatto del digitale e sono cambiate radicalmente quindi gli strumenti le prospettive nel giro di qualche anno e velocemente continuano a cambiare quindi questo richiede e su questo abbiamo riflettuto a forum PA un grande lavoro sulle competenze dei comunicatori pubblici sulla riconoscimento anche professionale di questo poi abbiamo parlato e ne parleremo in questa puntata con chi ne parliamo con chi ne parliamo perché ogni puntata ci saranno degli ospiti collegati via telefono oggi sono con noi marco laudonio che giornalista e docente all'università la sapienza di roma e roberta mochi che capo ufficio stampa dell'asl roma 1 benvenuti grazie grazie infinite con loro appunto approfondiremo un po' queste tematiche naturalmente vi abbiamo fatto vedere e sentire nelle scorse puntate che partiamo da alcuni estratti e adesso ci tuffiamo direttamente nell'angolo arena il primo angolo della della giornata che prende il nome appunto dall'arena che era il palco di forum PA 2023 dove si sono svolti alcuni degli eventi e l'arena da che cosa cominciamo dall'evento del 18 maggio se non sbaglio allora come dicevo prima ho avuto il piacere di seguire in prima persona alcuni di questi appuntamenti al forum PA il 18 maggio ho intervistato alberto barachini sottosegretario di stato alla presidenza del consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria e quindi naturalmente non potevamo con lui non affrontare un po' a 360 gradi i temi della comunicazione pubblica istituzionale anche politica e tanti temi emersi il rapporto con i cittadini il tema della trasparenza che è centrale rispetto alla comunicazione pubblica il tema della disintermediazione dell'informazione che in questi anni è balzato in primo piano il tema anche dell'uso dei social media quindi tanti aspetti abbiamo naturalmente prendiamo degli estratti molto brevi ne abbiamo scelto uno poi potete vedere e ascoltare l'intervista per intero sul nostro sito ascoltiamo un attimo ascoltiamo l'estratto e torniamo in studio ma i ruoli sono diversi c'è un elemento critico però che secondo me l'apertura la grande apertura che c'è stata da parte le istituzioni nei confronti dei cittadini purtroppo non sempre è compresa paradossalmente si sta assistendo a una percezione di minore trasparenza mentre le istituzioni si aprono al cittadino il cittadino ha a volte la percezione che non riceve tutto il messaggio io credo che ci sia una responsabilità anche di tutte le filiere della comunicazione perché chiaramente c'è una responsabilità condivisa fra chi comunica e chi riceve la comunicazione ma i ruoli decisionali sono diversi ovviamente il cittadino deve comprendere che la politica o le istituzioni hanno il diritto e il dovere di fare scelte e il cittadino ha il diritto dovere di valutarle magari dando il tempo all'istituzione la politica di fare quelle scelte e poi di valutarle in un medio periodo quindi michela qui il sottosegretario cita un po questo questo paradosso c'è più la pubblica amministrazione si apre più viene viene vista come non trasparente come come funziona un po beh allora diciamo adesso chiamo un commento ai nostri ospiti più che altro sottolineava che spesso questo grande sforzo non è riconosciuto allo stesso livello quindi probabilmente sono anche le aspettative che sono cambiate ci aspettiamo sempre di più e quindi c'è una percezione di che non ci sia una sufficiente risposta a questa richiesta di trasparenza roberta e marco chiederei entrambi un commento su questo tema quindi la pubblica amministrazione come casa di vetro se ne parla da tanti anni una grande necessità secondo voi in questi anni c'è stato effettivamente un passo maggiore verso la trasparenza e soprattutto se c'è ancora questa distanza con i cittadini come possiamo colmarla iniziere con con roberta grazie michela sì effettivamente da quando abbiamo iniziato a utilizzare diciamo la comunicazione digitale la distanza è molto diminuita rispetto insomma al collegamento che abbiamo con i cittadini e soprattutto siamo diventati più trasparenti ma quello che è cambiato è quello che giustamente dicevi tu cioè le aspettative delle persone sono cambiate e sono aumentate perché le persone si sono abituate ad avere risposte real time e pretendono lo stesso tipologia di risposta anche dalla pubblica amministrazione che però non è un istituto di vendita che può rispondere dando pareri su un prodotto ma è un'amministrazione che fa servizio alle persone quindi ha bisogno di un pochino più di tempo nella risposta è chiaro che colmarla è il nostro desiderata maggiore perché è proprio quello che stiamo tentando di fare cioè di appoggiarci alla tecnologia per riuscire a rispondere non dico real time ma nel meno tempo possibile alle richieste dei cittadini e professor laudonio un un suo commento su questo sì innanzitutto bisogna immaginare le pubbliche amministrazioni parliamo al plurale le pubbliche amministrazioni centrali locali con finalità di servizio al cittadino diretto come quella in cui roberta lavora e quindi risponde ai cittadini no perché la sanità pubblica è quanto di più vicino che magari rompe nelle nostre vite quando siamo affaccendati in tutt'altro diventa un'urgenza mentre invece la gran parte degli uffici centrali hanno ancora una distanza incolmabile col cittadino perché mentre il diritto amministrativo e la normativa sulla comunicazione pubblica hanno imposto una trasparenza generalizzata quindi l'esigenza di tutti i cittadini come un diritto ad essere informati in gran parte delle amministrazioni è ancora vista o concessa in qualche senso e questo è un problema e in realtà i social media forse criticamente avendoli usati usandoli tuttora per lavoro devo dire hanno dato una risposta a un'esigenza di manifestazione di trasparenza da parte dell'emittente della pubblica amministrazione o del decisore politico amministrativo che non è la stessa richiesta di servizio che può arrivare dei cittadini spesso la casa di vetro in me è una vetrina in cui io faccio vedere una serie di cose ma se ci sono una serie di problemi tendo a dare risposte al singolo negli anni in cui ho lavorato il ministero dell'economia presidenza del consiglio ho visto plasticamente la difficoltà nel dire c'è una risposta questa risposta va data in realtà se andiamo ad analizzare i bisogni dei cittadini a 150 persone almeno quindi non rispondiamogli solo in privato rispondiamogli sui social mettiamo in pubblico quelle che sono delle risposte comuni perché così diamo un servizio doppio le persone impiegano molto meno tempo a capire una risposta e gli uffici si abitano a dover rispondere in maniera a volte meno burocratica perché come sottolineava correttamente robertta mochi gli uffici hanno dei tempi che sono i tempi dovuti non a una pigrizia a volte ma la necessità di verificare ma la gran parte delle persone fa domande che in realtà corrispondono a una conoscenza di informazioni di base che non hanno perché chi lavora in un ufficio pubblico privato spesso immagina che una campagna di comunicazione fatta una volta sia sufficiente e non è così in realtà anche i concetti più semplici andrebbero messi ad alta rotazione come fanno i video le canzoni su spotify o alcuni post nei feed dei social network dove se noi andiamo in organico ci vede magari un centesimo della nostra base no certo e questo tendiamo a dimenticarlo e invece sarebbe essenziale rispondere 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 e avere sempre a mente che tanto non sarà mai sufficiente mancherà sempre qualcosa perché è difficile entrare nei meccanismi di comprensione dei singoli certo possiamo dire su questo anche che probabilmente le competenze possono aumentare sia dal lato della pubblica amministrazione delle persone che ci lavorano però magari in un futuro anche da parte dello stesso cittadino che può imparare anche a cercare le informazioni che gli servono all'interno del mondo della comunicazione istituzionale della pia certo beh il tema delle competenze è centrale in senso bidirezionale certo parliamo di digitale competenze digitali di chi lavora nella pubblica amministrazione ma anche di chi riceve i servizi chi soffrisce dei servizi quindi cittadini le imprese sappiamo che è un grande problema ancora per l'italia siamo non siamo mai tra i primi negli indici internazionali il famoso desi supercitato ma insomma viene sempre bene e quindi anche di questo di competenze abbiamo parlato al forum pia in particolare abbiamo c'è stato un talk quindi entriamo nell'angolo talk usciamo dall'arena ci spostiamo di sala andiamo diciamo virtualmente nella sala talk dove tra l'altro proprio roberta anche stata nostra ospite roberta mochi questo talk dedicato proprio alla figura del comunicatore pubblico e parlando anche della normativa che regolamenta la professione della necessità di rivederla di riformarla sentiamo da qui abbiamo estratto due bravi spezzoni ascoltiamo il primo sergio talamo direttore comunicazione istituzionale relazioni con le pia del formaz pia è perché sento pure qualcuno che dice noi ci lavoriamo da anni beh per arrivare alla 150 ci vogliono più di 15 anni la legge i primi dibattiti sulla sulla sugli uffici stampa risalgono a metà degli anni 80 quando esistevano come esattamente adesso gli uffici digitali in forma non riconosciuta nel 1993 si parlò per la prima volta di urp insomma non rifaccio la storia ma diciamo che è una storia legislativa e politica molto più lunga del nostro impegno quindi io sono molto fiducioso però attualmente questa rimozione c'è ed è una rimozione paradossale io vi cito soltanto tre campi in cui già in questi giorni sono stati sottolineate è stata sottolineata la necessità impellente di cambiare passo se noi parliamo di emergenze naturali come quella che purtroppo in questo momento interessa tante persone in Emilia Romagna e che comunque purtroppo fa parte ormai della nostra quotidianità noi abbiamo bisogno di informazioni pubbliche verificate semplici e autorevoli non c'è non fanno altro e questo che cita Talamo è un altro esempio di comunicazione di cui parliamo tra pochissimo ci ascoltiamo Michela se sei d'accordo anche l'altro estratto subito dopo Francesco Di Costanzo presidente di Pia Social e Fondazione Italia Digitale ci ascoltiamo quest'altro estratto e poi li commentiamo in studio insieme non abbiamo sfruttato quel momento per incardinare la riforma della legge 150 cioè la famosa 151 perché devo dire la verità non so cosa debba succedere più di una pandemia mondiale di una guerra molto digitale, emergenze ce ne erano già tante anche prima per far capire che una cosa ripeto di una banalità assoluta cioè che chi oggi è esperto in comunicazione e informazione digitale deve avere un riconoscimento nell'ordinamento italiano riconoscimento si intende economico, di ruolo, di responsabilità, di lavoro quotidiano se non lo so non mi viene in mente nulla di quello che può succedere spero nulla perché più di così quindi questo è il meno e chiudo dicendo che secondo me dobbiamo trovare il modo anche con la nuova legge noi ci abbiamo messo un passettino del nostro creando quindi Michela come dicevamo comunicazione istituzionale vuol dire anche comunicazione in fasi di emergenza o comunque anche non solo informazioni ai cittadini, informazioni pratiche anche altri tipi di informazioni Sì certo, sia appunto Sergio Talamo che Francesco di Costanza hanno portato l'esempio della comunicazione in emergenza e su questo chiederei un commento proprio a Roberta Mocchi perché naturalmente la sanità è stata in prima linea in questi anni nella comunicazione in emergenza e lo è spesso Roberta però volevo in particolare chiederti questo allora di comunicazione pubblica si parla appunto spesso quando ci sono situazioni di emergenza poi magari ci dimentichiamo nel quotidiano quanto è importante per noi parlare però di questa riforma della legge 150 non è un tema per addetti ai lavori cioè spieghiamo un po' magari a chi non è un comunicatore di professione perché per i comunicatori pubblici è così importante questo ragionamento sulla riforma della normativa allora sicuramente è importante perché senza una riforma la 150 ormai ha 23 anni quindi ha cristallizzato diciamo un periodo di tempo e mentre il mondo è andato avanti la società è andata avanti e la comunicazione stessa è cambiata senza un adeguamento a quella che è la nuova società e quindi anche a tutto il mondo del digitale è molto difficile far comprendere ai cittadini cose che a noi comunicatori pubblici sembrano banali e che invece al cittadino non arrivano mai Marco Laudonio aveva ragione a dire che la ripetizione della stessa informazione non solo è utile ma è indispensabile perché il cittadino stesso è distratto ma noi stessi quando siamo nella veste di persone magari ci perdiamo delle informazioni quando parliamo di servizi essenziali come quelli di salute pubblica o come quelli di reazione a un'emergenza che può essere appunto anche un'emergenza naturale è fondamentale far comprendere ai cittadini come direzionarsi e perché ci serve questa riforma perché non tutti quelli che lavorano negli uffici di comunicazione pubblica sono adeguatamente formati al digitale quindi ci devono essere delle persone che sono in grado di utilizzare lo strumento e di utilizzare soprattutto un linguaggio che è un linguaggio molto diverso da quello della comunicazione istituzionale alla quale eravamo abituati noi soprattutto che facciamo un giornalismo scientifico diamo informazioni comunque di carattere medico dobbiamo svolgere tutta una difficile opera di traduzione per mantenere autorevolezza ma essere al contempo orizzontali nei confronti dei cittadini quindi essere compresi che per noi è fondamentale perché far capire a un cittadino come si accede a un servizio magari di prevenzione ci aiuta a migliorare non solo il suo stile di vita a migliorare insomma la sua vita nel quotidiano ma ci aiuta soprattutto poi a gestire magari quelle cronicità che nel tempo arriveranno ricordiamoci che facciamo servizi alla persona dai zero fino al fine vita quindi per noi è fondamentale accompagnarli sempre ma soprattutto dargli gli strumenti per aiutarsi da soli e quindi aiutarsi vuol dire anche entrare in contatto con i servizi nel modo giusto fare domande appropriate e questo è un servizio che dobbiamo dare noi se non siamo adeguatamente formati, se la pubblica amministrazione non riconosce il valore di questi comunicatori e quindi non gli dà lo spazio di manovra come pensiamo noi di poter istruire, educare e vogliere una funzione didattica nei confronti dei cittadini? non ci riusciremmo mai se non abbiamo degli uffici che sono performanti e quindi di questo si parla non solo infatti come citava Roberta Mocchi il fattore età comunque non è da sottovalutare soprattutto in alcuni ambiti come quello della sanità cioè le persone a cui ci si rivolge sono veramente tante e vanno da un'età bassa possiamo dire a un'età veramente molto alta e anche lì il divario delle competenze si fa sentire passiamo all'angolo rubriche l'ultimo angolo è quello delle rubriche ricordiamo le rubriche PA i talk PA sono a Forumpialo degli spazi dove le amministrazioni, i territori raccontano principalmente i loro progetti, le innovazioni, quello che stanno facendo e presentano anche diverse ricerche quindi vi mandiamo adesso degli spezzoni appunto partendo dalla rubrica è una rubrica che è stata dedicata, organizzata a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicata proprio ad una ricerca condotta insieme ad Ipsos per valutare proprio la percezione dei cittadini rispetto alla comunicazione pubblica quindi sentiamo un bravestato da questa prima rubrica direi che quello che emerge è che la comunicazione ha una sua complessità e appunto l'efficacia del messaggio passa attraverso molte variabili il fatto che le istituzioni siano consapevoli di dover aver bisogno di professionalità specializzate che in qualche modo rendano più efficaci questa attività di comunicazione mi sembra decisamente molto confortante però c'è l'altra metà che dovrebbe in qualche modo essere un pochino più responsabilizzata lo diceva il sottosegretario il nostro è un paese che ha bisogno di recuperare anche un po' di civicness cioè di senso civico, di senso di partecipazione ad una collettività dove il bilanciamento tra la dimensione individuale e il senso di appartenenza larga può essere la chiave decisiva anche per indurre le persone ad informarsi di più e a essere un pochino più consapevoli delle loro responsabilità da cittadino questo era l'intervento di Ferdinando Pagnoncelli presidente di Ipsos Michela, il fattore... proprio quello che dicevamo prima la collaborazione anche da parte dei cittadini rispetto a questi temi allora, altra rubrica andiamo velocemente così poi facciamo un ultimo commento altra rubrica, questa invece realizzata in collaborazione con Istat sul tema della comunicazione statistica fondamentalmente perché naturalmente chi meglio di Istat su questi temi e abbiamo Giulia Mottura dirigente del servizio comunicazione eventi e social media proprio della direzione centrale per la comunicazione e sviluppo dell'informazione statistica in Istat inoltre questo rapporto di fiducia che l'Istat tiene vivo sia per coinvolgere i rispondenti ma anche per rafforzare la fiducia nell'informazione statistica ufficiale è importante soprattutto in questa fase storica in cui sta cambiando il processo di produzione statistica l'Istat come tutti gli altri istituti nazionali di statistica a livello internazionale sta utilizzando, sta avviando, integrando fonti nuove e big data e quindi questo va spiegato, va fatto comprendere al pubblico in modo trasparente garantendo qualità, privacy e tutto ciò che il pubblico deve conoscere anche in questa fase, dicevo, la costruzione della fiducia passa soprattutto attraverso le attività e i canali di comunicazione dell'Istat ecco e anche questo estratto ci fa capire come la comunicazione non debba essere uno strumento monodirezionale ma bidirezionale che ha bisogno anche dell'aiuto, possiamo dire, della comunità che deve fruire di questa comunicazione competenze, fiducia, qualità, insomma tutti temi fondamentali Ultimo estratto di oggi, così poi lo commentiamo con i nostri ospiti di Alberto Marinelli, direttore del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell'Università della Sapienza di Roma ascoltiamo questo breve estratto e poi commentiamo insieme questi brevi video che abbiamo ascoltato Ve lo ricordo rapidamente, il web 1.0, cioè portiamo tutto sulla rete il web 2.0, cominciamo a preoccuparci dei servizi e cominciamo a preoccuparci di quello che le persone ci dicono la dimensione partecipativa, la declinazione multicanale, miglioriamo l'efficienza dei servizi cerchiamo di trovare i punti di contatto più efficaci, più agevoli, più performanti dal punto di vista quello che dobbiamo fare, ci apriamo a nuovi scenari di comunicazione l'avvento dei social network, quello che apparentemente sembrava non riguardare la pubblica amministrazione invece abbiamo scoperto che è un'opzione assolutamente strategica non solo per informare, coinvolgere, sono i primi canali per andare direttamente al cittadino ma anche per ascoltare, per capire, per monitorare, per partecipare e anche qui appunto questo modo di partecipare sempre bidirezionale cioè i social non sono solamente un modo per comunicare ma anche per ascoltare il pubblico Sì, allora quest'ultimo estratto è stato preso da una rubrica che era dedicata proprio a presentare una ricerca curata dall'Università Sapienza di Roma sul tema degli URP, come sono cambiati gli URP insomma in questi tanti anni in cui sono stati in attività e quindi su questo chi meglio del professor Marco Laudonio al quale chiediamo proprio un commento su che cosa è emerso sinteticamente da questa ricerca fondamentalmente gli URP stanno cambiando volto e quali sono i principali fenomeni di innovazione che li stanno interessando Tanto grazie per la curiosità per il lavoro di ricerca perché è un piccolissimo gruppo c'è il professor Marinelli che fa il corrento scientifico io e Lucia D'Ambrosi abbiamo tirato le fila di questa ricerca con la collaborazione di Paolo Brescia, Gabriella Radano e Andrea Duca ma la ricerca è in itinere, noi da marzo abbiamo fatto un questionario a cui hanno risposto all'incirca 202 responsabili di uffici in relazione con il pubblico comuni, ministeri, ASL, la ricerca continua fino al 30 settembre quindi i dati che avevamo era una foto mostra, era un reel, sta continuando in qualche modo Cosa è messo? Che questi uffici in 30 anni sono cambiati sono cambiati non per innovazioni normative perché sono stati introdotti nel 1993 messi a sistema con la 150 del 2000 e poi con una direttiva voluta dallo scompasso recentemente Franco Prattini che ha tolto un sacco di dubbi e una cosa che mi ha fatto molto piacere nella presentazione poi chi avrà la curiosità e la pazienza di vedere il talk intero se ne renderà conto è che Roberto Garofoli, presidente di sezione del Consiglio di Stato già sottosegretario alla presidenza con Draghi, magistrato amministrativo ci ha riconosciuto la bontà dell'aver voluto fare una ricerca sull'attuazione dopo 30 anni perché noi abbiamo l'abitudine come paese di non misurare dopo gli effetti annunci gli effetti veri delle riforme gli URP hanno portato la comunicazione dentro la pubblica amministrazione prima ancora di una regolarizzazione degli uffici stampa e sono uffici, tra i pochi credo che almeno per i nostri rispondenti il 70% di chi li dirige è una donna e quindi sono degli uffici in cui il gender balance è più che rappresentato finalmente lasciatemi dire e però sono degli uffici che stanno cambiando abbiamo fatto una tassonomia, quindi una classificazione rispetto al grado di innovazione sul digitale perché quello che riteniamo è che la pandemia ha avuto un effetto di sfida sul digitale irreversibile e quindi cosa succede? c'è almeno un 44% di chi c'è già risposto che sono uffici, che usano i canali social la newsletter, si sono organizzati fanno tutto quello che prescrive la legge sono i minimal un 36% si utilizza sistemi tecnologici per il monitoraggio dei canali social il che vuol dire che non c'è l'occhio umano e basta che può avere una disattenzione, un altro impegno e magari a qualcuno non si risponde per giorni ma ci sono dei sistemi e questi sono i listener quelli che si mettono in ascolto un 18% e su 200 vuol dire una ventina ma è un numero significativo inizia ad utilizzare l'intelligenza artificiale le chatbot li abbiamo chiamati gli explorer e poi c'è una parte che è veramente convinta di una funzione radicale di innovazione della piastra digitale che abbiamo chiamato i radical non chic hanno usato TikTok fanno il data mining dei testi ragionano su come usare LinkedIn non solo per la parte concorsuale sono veramente degli uffici che si mettono all'avanguardia come lo fanno? in parte con personale formato in parte con personale che volontaristicamente ci trova perché attenzione io come Roberta e gran parte di quelli che abbiamo sentito nei talk sono tra i fondatori di Pia Social e ravviso un problema se ci concentriamo sulla legge e sulla comunicazione pubblica ci dimentichiamo che la legge che regola l'ordinamento giornalistico addirittura degli anni Sessanta non vediamo che le leggi e le direttive prevedono sulla protezione civile una funzione di comunicazione i poteri straordinari che vengono assegnati nelle situazioni commissariali e con le ordinanze di protezione civile ad esempio non prevedono mai la possibilità di riservare una parte di canali radio di trasmissioni sulle varie piattaforme alla comunicazione di servizio in questo senso la normativa sul pubblico impiego non si preoccupa di recepire il fatto che dalla 150 almeno c'è una parte di funzioni dell'API quindi il primo dato che magari dovremmo chiedere tutti è di fare standardizzati come per la magistratura e per altre funzioni i concorsi per la comunicazione pubblica che si possono fare alle gestature invariate l'abbiamo visto col PNRR eppure non c'è questa attenzione e poi posso dire che appunto anche questo fatto del lavoro volontario nel senso la comunicazione archipelago lasciatemi dire ovvero sia ogni bella esperienza rischia di essere una buona pratica in isola invece dobbiamo essere un archipelago di competenze e di esperienze mettere a sistema mettere a sistema come diciamo spesso stavo per dire appunto cioè non è possibile che ci sono delle realtà in cui funzionano bene perché ci sono delle persone che ci si mettono appunto volontariamente perché sono appassionate ed altre no bisogna appunto mettere a sistema assolutamente ringraziamo i nostri ospiti grazie Marco Laudonio giornalista e docente dell'Università della Sapienza di Roma e Roberta Mocchi capo ufficio stampa dell'ASL Roma 1 grazie mille grazie a voi grazie grazie a voi e noi ci sentiamo alla prossima puntata di Forum Pia Play assolutamente tutti i giorni alle ore 11 sulla home page di forumpa.it una mezz'oretta insieme per approfondire questi temi e poi sul sito sul sito trovate sia le puntate di Forum Pia Play ma soprattutto anche tutti i video che vi stiamo proponendo in versione integrale degli eventi che si sono tenuti a Forum Pia 2023 quindi mi raccomando andate lì spulciate un po' il sito e cercate quelli che più vi interessano e troverete quello che vi interessa di più grazie Michela alla prossima puntata Grazie a tutti